Io sento la voce, non parto più, uno, due, tre, voce! Vace, voce, voce! E questo è il DGZ, il compagno di Jay Garnieramba! E questo è il DGZ, il compagno di Rossegazza, il compagno di Rossegazza, il compagno di Rossegazza, il compagno di Rossegazza! Nicola, via la prossima! Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.